Ci da augurarsi che il mondo resti adolescente, lo diceva un famoso pedagogista di qualche anno fa, proprio additando quei valori innati che l'adolescenza porta in sé, questa età della vita molto delicata, fragile, ma anche ricca di tanti sani valori. In fondo è un'età della vita dove ci siamo passati, insomma, è un'età molto importante. Cari amici, la rubrica che viviamo in questi giorni, in questi pochi minuti che stiamo insieme, sta proprio a mettere al centro l'attenzione di quelle parole che stanno nel nostro cuore. Oggi l'adolescenza è una parola molto importante, perché gli adolescenti ci sono cari, gli adolescenti sono il nostro futuro. Ma dove sono oggi gli adolescenti? Prima pensavamo e li vedevamo per le strade, tante volte i genitori vedono i figli uscire ma non sanno dove sono, tante volte succede che il rapporto tra genitori e figli un po' salta. Io sono insegnante a scuola, in una scuola superiore, spesso noto che queste tematiche sono molto molto importanti, proprio il rapporto con i genitori. Io per la nostra parte quando chiedi ai ragazzi qual è il valore più importante che portano al cuore, il valore è la famiglia. È un paradosso, scappano da casa ma in realtà riconoscono che senza la famiglia loro si sentono perse. Allora per noi gli adolescenti sono importanti. Qual è il messaggio che voglio con voi condividere ai miei amici? E' che avendoli oggi più che mai a casa cerchiamo di ascoltarli un po' di più, cerchiamo di valorizzare questo tempo che stiamo con loro per osservarli da vicino ma senza giudicarli, ma dando loro modo e tempo di ascoltarli. Ieri in una video chat con un gruppo di adolescenti chiedevo ma come è passato il tempo? E diversi loro si cimentano nel fare la pizza in casa, nel fare i docci insieme ai genitori. Questa condivisione forzata diventa invece un momento, un'occasione dove possiamo veramente ricucire quegli strappi del dialogo adolescenza, famiglia e genitori che è molto importante. Ci sia spazio per l'ascolto e lo so che l'ascolto occorre tanta pazienza, ma soprattutto ci sia spazio per una comprensione reciproca. Quella domanda come stai, come vanno le cose, possa abitare nel cuore soprattutto di chi ha il compito educativo. Un abbraccio a tutti e soprattutto al mondo degli adolescenti. Grazie di tutto, ciao!